buonasera cari amici di Egitto ora siamo molto lieti di parlare oggi con il dottor Alessandro Masi segretario generale della società Dante Alighieri buonasera dottor Alessandro buonasera a lei professore buonasera a tutti quelli che ci ascoltano buonasera la ringraziamo per aver accettato questa opportunità siete stati molto gentili e sono molto felice di parlare con lei e con tutti i cari amici egiziani con i quali noi siamo legati da un profondo rapporto di stima sul piano culturale e devo dire anche di simpatia umana detto da lei è un onore e un piacere e lei ci può parlare delle attività della società d'andare ieri nel mondo e soprattutto in Egitto sì la società d'andare ieri è una è la più antica istituzione italiana e per la diffusione della lingua nel mondo perché nasce nel lontano 1889 addirittura per volontà del poeta oggi la dante ha 400 sedi in tutto il mondo pensate un po' soltanto cento di queste stanno nella lontana argentina ma la dante all'inizio del secolo scorso le prime sedi le mise nel nord dell'africa in egitto in libia e in l'inizio fino al marocco e le conta più di centocinquantamila soci studenti a un'attività di formazione per docenti a un'attività di certificazione della lingua italiana e dal marzo del mille del duemila e ventuno è dotata anche di una piattaforma il learning che ha come indirizzo www.dante.global attraverso la quale noi possiamo raggiungere anche a distanza coloro che amano la lingua italiana ecco sarebbe interessante caro professore lei che è un cultore della della lingua ma in più in generale del della cultura italiana conosce anche i motivi per cui nel mondo si studia molto l'italiano non è la prima lingua come l'inglese non è una lingua veicolare come lo spagnolo ma è una lingua che si attesta ai primi posti tra le lingue studiate per motivi culturali dunque prego dunque l'italiano ci si accosta all'italiano per motivi culturali che sono poi quelli che conosciamo e conoscete tutti l'italia è un grande paese per l'arte per la moda per la musica per il teatro per lo spettacolo e un po anche come voi egiziani per l'archeologia e questi sono i motivi per cui molti giovani e si avvicinano allo studio della lingua italiana per approfondire le materie di cui ho parlato quindi si va a milano a studiare moda una volta si veniva anche a roma a studiare moda anche oggi lo si fa perché le grandi masons della moda come valentino armani gucci erano e sono grandi firme della moda mondiale e in italia appunto si può attraverso le università arrivare all'atelier di questi grandi eh stilisti di moda e poi ci sono i motivi dell'arte per cui si viene in italia perché si approfondisce l'arte del medioevo del rinascimento ma devo dire anche l'arte contemporanea perché con la generale di venezia con le grandi istituzioni c'è molto da vedere nel nostro paese poi non ultimo c'è la musica io adesso non voglio essere nazional popolare ma il festival di Sanremo è una è una kermesse musicale conosciuta in tutto il mondo dove sono passati i più grandi cantanti che sono ormai delle star mondiali come Albano Totò Coutugno Mina eh fino ai più recenti Maneskin che sono un'espressione del mondo giovanile tutto questo il palcoscenico della bella città di Sanremo sulla Liguria davanti al mare ha ha dato modo di esibirsi a tanti a tanti cerebri cantanti ma è anche mi permetta di dirlo professore il mondo del cinema noi sappiamo che i grandi Mastroianni Sofia Loren fino ad arrivare alla grande bellezza eh di Sorrentino e hanno fatto dell'Italia un grande set all'aperto perché le scenografie le offre già il paesaggio la bellissima Roma la bellissima Firenze la bellissima Venezia ma anche Palermo la città del meridione sono città che offrono tanti spunti ecco questo per dire come alla lingua italiana ci serviva non perché si faccia un uso pratico come l'inglese che tutti dobbiamo conoscere volando prendendo un aereo girando il mondo ma una lingua che è molto chic direi molto snob è una lingua che la si studia per particolari esigenze intellettuali quindi io direi che è una lingua dedicata ecco da questo punto di vista a coloro che hanno voglia di approfondire di più le conoscenze della storia dell'arte e di tutte le altre materie che ho detto prima sono d'accordo con lei eh perché avete pensato di eh fornire una sede di Radda Rivieri alla capitale ma qui dobbiamo però ragionare un po' sui rapporti esistenti tra l'Italia ed Egitto parlo di rapporti culturali noi siamo debitori all'Egitto di tanti eventi della cultura di tutti i tempi della storia universale tutto il mondo è debitore all'Egitto della grandissima tradizione che l'Egitto ha nel corso dei secoli ma vado ancora più in là nei testi sacri della Bibbia eh nei testi sacri eh del Corano del Vangelo l'Egitto ha una parte fondamentale nella storia dell'umanità ecco mettiamo così ehm più recentemente noi abbiamo avuto eh italo egiziani io li chiamo così perché il fondatore del futurismo Filippo Tommaso di Marinetti era nato in Egitto il grande poeta io secondo me il più grande poeta italiano o perlomeno io lo 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 metto tra i più grandi poeti italiani come Giuseppe Ungheretti era nato ad Alessandria i rapporti di questo mare che è il Mediterraneo hanno fatto sì che nel corso dei millenni i legami dell'Italia con l'Egitto fossero così intensi oggi lo sono per altri motivi molti giovani egiziani vengono a studiare in Italia molti anche per trovare il lavoro e si collocano nell'ambito dell'enogastronomia eh dando ottimi risultati le comunità egiziane eh in Italia sono comunità solide mh strutturate noi abbiamo rapporti con l'ambasciata egiziana qui a Roma anche per così per eventi culturali c'è una grande ricchissima vita eh culturale in Egitto che noi insomma apprezziamo e ricambiamo proprio da questo punto di vista con uno scambio di 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 collaborazioni. Vengo alle attività della tanta liglia in Egitto come diceva all'inizio eh sono di lunghissima data partono addirittura ai primi anni venti e trenta del millenovecento con le sedi del Cairo e di Alessandria soprattutto dove credo ancora esista una Dante anche se non ha rapporti più con Roma ma sotto questo nome continua a proseguire le proprie attività. C'è una Dante o c'è stata una Dante di ieri fino a qualche anno fa attiva presso i locali dell'ambasciata. Insomma però debbiamo permettere che quello che potremmo fare eh non è quello che facciamo oggi. Occorrerebbe anche da parte egiziana una una volontà di collaborazione per riaprire questo ponte non quello di Messina ma il ponte tra l'Italia e il Cairo tra Roma e il Cairo per riattivare questi rapporti perché il ponte di Messina sarebbe troppo piccolo per far passare tutto quello che dovrebbe passare di cultura tra l'Italia e Egitto. Servirebbe un grandissimo ponte. Ecco siccome questo ponte si può fare io mi auguro che nei prossimi mesi e non nei prossimi anni si possa pensare a qualche progetto comune per riattivare un servizio didattico e culturale. Io non parlo soltanto di lingua ma parlo anche di possibili collaborazioni sul piano culturale per eventi, per mostre, per manifestazioni di cui la lingua è una parte fondamentale per comprenderci, per arrivare così a capirci fino in fondo. A me piacerebbe molto conoscere la lingua egiziana per poter studiare meglio tutto quello che è il vostro patrimonio. Quindi dalla conoscenza del patrimonio la lingua si colloca in un punto essenziale. Ecco si possa ricostruire un percorso soprattutto perché la mia preoccupazione va a un argomento che mi sta molto al cuore che sono i giovani, la loro educazione, il loro futuro. Noi abbiamo una responsabilità verso le generazioni dei nostri figli, perlomeno io che sono padre. Ecco sento molto forte l'esigenza di fornire ai nostri ragazzi, la possibilità di allargare il loro orizzonte, il loro spettro di visione delle cose del mondo perché l'ignoranza genera mostri, la conoscenza genera, posso dire, la felicità e conoscere in fondo è un po' come essere felici. E quindi stare accanto ai giovani, poterli formare, formare, poter offrire loro una possibilità in più di conoscenza di un'altra lingua, oltre l'egiziano, magari loro conosceranno l'inglese perché viene studiato come prima lingua, però un'offerta di una seconda lingua o di una terza lingua allarga ancora di più l'orizzonte. Noi sappiamo che l'Unione Europea ormai nei loro indirizzi di studio contempla almeno la conoscenza di tre lingue per un ragazzo e questo è la verità. Ad esempio porto il caso di mio figlio, lui parla italiano, ma ha fatto scuola francese, conosce benissimo l'inglese perché è stato negli Stati Uniti, sa lo spagnolo perché è facile impararlo per un italiano e poi conosce anche il croato, quindi ha un patrimonio linguistico che gli permette di andare in giro del mondo e poter parlare diverse lingue. Questo dovrebbero farlo i nostri ragazzi in Italia e devono farlo anche i vostri ragazzi in Egitto perché questo favorirà anche il dialogo tra i popoli, la pace che noi tutti vorremmo, l'amicizia che noi tutti vorremmo e quindi per un futuro migliore si passa attraverso l'istruzione perché la cultura, mi permette di dirlo professore, è l'energia dell'uomo, è l'energia rinnovabile dell'uomo, quella che si rinnoverà sempre, non ha bisogno di petrolio, ha bisogno di libri, di studio e di applicazione. Ha perfettamente ragione, sono d'accordo con lei. Per quanto riguarda la sua visita in Egitto, come è stata? Cosa ha visto? Beh, splendido paese, splendido paese anche perché io l'avevo studiato all'università attraverso i miei esami di storia dell'arte e uno lo feci appunto sulle tavole del Fayum, quei dipinti meravigliosi del secondo e del terzo secolo. Poi ovviamente come tutti sono rimasto affascinato dai misteri del grande Egitto, dalle piramidi, dalle sfingi, quindi con mia moglie e con un gruppo di altri venti amici decidemmo di attraversare tutto l'Egitto partendo dal Cairo fino arrivando giù a Luxor e a dove si poteva arrivare con i batteri. A Swan, sì sì. E devo dire che è stata una grande emozione perché poi arrivare a Swan è un po' visto che anche lì c'è una mano italiana, aver ripercorso questo lungo cammino di secoli attraverso monumenti, storie, paesaggi meravigliosi, dei tramonti indimenticabili, questo lento andare sul Nilo. Beh insomma per me che ho studiato tanto di cultura classica il Nilo rappresenta tante cose. Ho citato prima la Bibbia ma direi che ci sono ancora tante altre cose che mi riportano la memoria a questo grande fiume sacro che in Italia noi abbiamo celebrato nella monumentale piazza che lo scultore Bernini fece a Piazza Navona con i grandi quattro fiumi tra cui il Nilo. La ringrazio molto eh dottor Alessandro e speriamo di rivederla eh in IG. Bene, mi lo auguro e poi anche voi mi auguro che veniate presto a Roma per una visita e per conoscerci meglio. Grazie Anko. Un saluto a tutti. Arrivederci.